Ancora una volta discriminati ed esclusi. Così si sentono i lavoratori agricoli e quelli della pesca che stamani in tutta Italia, qui siamo a Pescara davanti la prefettura, hanno fatto sentire la loro voce per rivendicare sostegni e diritti. L'emergenza sanitaria ancora in atto ha fatto precipitare la maggior parte dei lavoratori coinvolti e le loro famiglie in una situazione di totale povertà. Così Franco Pescara della FAICIS Labruzzo e Molise. Ci sentiamo dimenticati anche da questo governo, infatti nel decreto ristori non è previsto nessun bonus per i lavoratori agricoli, inoltre non è prevista la cassa integrazione per i lavoratori della pesca e in più purtroppo dobbiamo dire che in Abruzzo noi non rinnoviamo i contratti addirittura da dieci anni nella provincia di Teramo, sei anni dalla provincia di Pescara e più altri anni nelle altre due province. Cosa non da ultimo che le controparti non vogliono neanche iniziare le trattative. Quante persone attendono ristori? Parliamo di 2-3 mila persone perché questo comporte è previsto i lavoratori agricoli, i lavoratori degli agriturismi e soprattutto quelli che fanno ancora peggio di tutti sono i lavoratori florovivaistici. Visto e considerate che i matrimoni non si fanno, le cresime e le comunioni non si fanno, questo è un settore veramente in ginocchio. Tra le tante richieste presentate al governo, quelle più impellenti nelle parole di Nadia Rossi della Flai CGL Pescara. Chiediamo che ci sia un riconoscimento per i lavoratori agricoli che non hanno potuto raggiungere il numero delle giornate corrette per accedere alla disoccupazione agricole e quindi che ci sia comunque un provvedimento, una naspi, una disoccupazione, un qualcosa che ricopra appunto il periodo di mancata contribuzione per l'anno 2020. Oltre a questo noi che cosa chiediamo? Chiediamo che i voucher, di cui il governo Brandella nel momento in cui dice che c'è il sostegno all'agricoltura con i voucher, noi riteniamo che i voucher sia uno strumento da utilizzare in un modo ben preciso, semmai, e che comunque in passato hanno sempre determinato lo sfruttamento del lavoratore agricolo perché dietro il voucher si nasconde fortemente il lavoro nero ma anche si nasconde e viene amplificato il problema del caporalavato. Moreno D'Anastasio della Will Pescara sottolinea infine un ulteriore aspetto della vicenda, quello previdenziale. La cartina al tornasole dell'agricoltura sulle giornate. Se andiamo a fare un confronto tra la pubblicazione che è stata fatta in questi giorni dall'Inps, quindi degli elenchi anagrafici perché gli OTT risultano in pubblicazione dagli elenchi anagrafici fatti dai comuni e poi mandati all'Inps, notiamo che c'è una differenza tra il 19 l'anno 20 di circa meno giornate del 25,6%, significa che molte persone non hanno fatto giornate e quindi non hanno lavorato. Siccome la disoccupazione agricola viene data in base alle giornate, notiamo che quindi col 25,8% di giornate lavorati e molta gente non ha preso l'isoccupazione o prenderà di meno. Quindi chiediamo che a queste persone venga dato il bonus.